Livello 0 All time Quella che voi altri avete scoperto è una miniera d'oro molto più ricca di quanto immaginavamo Siamo assolutamente impreparati ad affrontare creature come il megalodonte Lo capisco, ma possiamo prepararci No, se non ha capito bene la separazione, se fosse stato là sotto Sì Ma come prendiamo la cosa da un punto di vista? Cos'è stato? Ma... Mei Ying... Jonas! Ha visto Mei Ying! Non sappiamo dov'è! Mei Ying! Mei Ying! Vado qui! Mei Ying! Mei Ying! Mei Ying! Mei Ying! Mamma! Oh tesoro! Stai bene? Là fuori c'era un mostro e mi guardava. Tranquilla, è solo una balena. Un momento. Dov'è Lucy? Dov'è la mamma? No... Dov'è Roman? No... Ma... Da... Oh... Grazie per la visione!